Mutui a tasso variabile? Beh, non è un bel periodo, ma Georgia, le dobbiamo dare il merito, ha con la legge di bilancio approvata a dicembre 2022 fatto una cosa molto bella, ossia ha ripristinato una normativa che vigeva in passato, ha dato la possibilità di rinegoziare i mutui a tasso variabile e trasformarli in mutui a tasso fisso. Ci sono però alcuni requisiti da rispettare. Devi aver sottoscritto un mutuo ipotecario entro il 31 12 2022. Il mutuo ipotecario deve essere di un importo non superiore ai 200.000 euro. Il mutuo deve essere sottoscritto per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso obitativo. Non devi avere un'ISE superiore a 35.000 euro e il tasso e la rata del mutuo devono essere variabili per tutta la durata del contratto. Se hai questi requisiti, recati nella tua filiale di riferimento e chiedi se rientri tra i soggetti che possono rinegoziare il mutuo portando il tasso variabile a fisso. Buona giornata a tutti! Ciao!